Perché andiamo a Feltre, in provincia di Belluno, da una ascoltatrice e soprattutto da una cliente del nostro partner Infinity Car. Abbiamo con noi Linda, da Feltre, in provincia di Belluno, per il momento Infinity Car. Buon pomeriggio, Linda, benvenuta. Buongiorno. Buon pomeriggio a te, tutto bene? Sì, grazie. Allora, noi chiaramente ti abbiamo contattato perché sappiamo che tu hai contattato Infinity Car per demolire un'auto. Ci racconti la tua esperienza? Sei rimasta soddisfatta? Sì, sono rimasta molto soddisfatta. L'ho contattata, loro gentilissime e velocissime, mi hanno spiegato che documentazione di mandarle. Appena mandato mi hanno fissato la data per venire a ricirare l'auto. Per cui, insomma, in maniera precisa e puntuale. E cosa hai speso per il servizio? Assolutamente niente, era tutto gratuito. Beh, insomma, sorprende, no? Trovare un servizio di questo tipo puntuale, efficace, senza muoversi da casa è gratuito, no? Sì, veramente non credevo. Avevo provato anche informarmi prima della compagnia. L'ho provato e veramente sono rimasto sorpresa. Ecco, allora, le chiedo per tutti coloro che, insomma, magari ci ascoltano in questo momento, in tutte le città della Lombardia, del canton Ticino, in tutta Italia, in digital. Consiglieresti di chiamare Infinity Car per rottamare un'auto? Sì, certamente. È un servizio, insomma, che ti ha trovato soddisfatta? Sì, erano anche gentilissime. Mi avevano chiesto come i problemi di salute, mi avevano chiesto se volevo delegare a qualcun altro. Erano molto disponibili. Perfetto, insomma, per venirle incontro nel migliore modo possibile. Grazie, grazie Linda per questa sua testimonianza e per la esperienza. Sicuramente. A risentirci a presto e grazie, naturalmente, anche qui, appunto, a Infinity Car. Abbiamo un'altra testimonianza di un altro cliente soddisfatto. Stiamo toccando tutte le città d'Italia, quindi questo ci rende, ovviamente, molto felici. Ve lo ricordo, se avete bisogno di rottamare un'auto, Infinity Car vi offre il servizio gratuitamente. Al prossimo momento di Infinity Car.